Buongiorno dal Tg1. Non dobbiamo arrenderci ai danni sociali della pandemia. La lotta al virus richiede serietà e unità. E il richiamo del Presidente della Repubblica, Mattarella, che chiede un impegno collettivo per una società più giusta e inclusiva. Dal Capo dello Stato l'auspicio che i nazionalismi non ritardino i recovery fund. Nadia Zikoski. È l'ora del coraggio del rischio e dell'esplorazione. Non dobbiamo arrenderci ai danni creati dalla pandemia. Le parole di Mattarella, i premiati della Fondazione Cotec per l'innovazione nell'industria, ricerca, pubblica amministrazione e terziario, sono una spinta a lavorare per la ripresa, a reagire alla sofferenza, alla morte e alla paura che hanno cambiato le nostre priorità, preparando una nuova stagione di sviluppo. Il dopo pandemia può essere un ponte verso una società più giusta e inclusiva, oppure può restituirci una comunità con disparità di vari squilibri irrisolti. Molto dipenderà da quanto e da come investiremo in ricerca e innovazione. Significa colmare i divari fra generazioni, quelli territoriali, ma anche guardare ad un nuovo modo di apprendere e lavorare. La trasformazione digitale sarà tra i motori della ripartenza. Serviranno ancora serietà, sacrifici, unità, risorse morali, dice il Capo dello Stato, ma è in vista il traguardo dell'immunizzazione di massa con la consapevolezza di un universale destino dell'umanità e della necessità di mettere a fattor comune gli sforzi della ricerca. Non tutti si aspettavano il salto di qualità venuto da un'Europa che ha fatto leva sui propri valori. I fondi messi a disposizione sono, dice, un'opportunità che non possiamo disperdere. Così come non possiamo accettare che i riflussi nazionalistici fuori tempo ne rallentino o intralcino il cammino. Così come non possiamo accettare che i riflussi nazionalistici fuori tempo